Ciao amici di chitarre, oggi siamo in redazione per provare una chitarra Fender American Deluxe Strat Plus questa chitarra si distingue dalle altre Fender per avere la possibilità di cambiare il wiring e la circuitazione dei nostri pickup tramite delle apposite card che Fender ci fornisce come potete vedere ogni card è caratterizzata da un suono specifico particolare che potremo configurare e personalizzare tramite questo switcher dip ma passiamo all'ascolto di questa splendida chitarra con degli esempi suonati da me grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti